La console generale di Romania a Bari ed il comandante del veliero Mercea hanno incontrato nel palazzo di città Taranto il vice sindaco Fabrizio Manzulli. La nave scuola Mercea partita all'inizio di luglio 2023 dal porto di Costanza e passata per il porto del Pireo in Grecia rimarrà nel porto di Taranto fino al 19 luglio. Poi getterà l'ancora per continuare il programma di addestramento e istruzione dirigendosi verso la Turchia. Per noi è un motivo di orgoglio, di grande gioia e orgoglio. È una nave di addestramento e questo anno ha in suo bordo 80 cadetti rumeni, un italiano, un spagnolo da Germania, da Turchia, da Bulgaria e Polonia. La nave scuola Mercea l'emblema della marina romena in addestramento con una crociera sui mari d'Italia, Grecia e Turchia. Ha un'importante missione di rappresentanza. La storica barca vele è stata ufficialmente dichiarata nel 2019 infatti ambasciatore onorario al servizio della Romania e l'anno scorso ha ricevuto il titolo di ambasciatore della Romania sostenibile. Molto interessato di questa visita a Taranto e comunque gli piace stare qui e di aver conosciuto anche il sindaco ed è anche per lui la prima volta. A bordo della nave scuola si trovano 80 studenti rumeni e stranieri provenienti da Accademie Navali d'Italia, Spagna, Germania, Turchia, Polonia e Bulgaria. Si allenano a bordo del veliero rafforzando così le loro abilità pratiche di navigazione e navigazione astronomica. Sono affascinati dalla nostra città, arrivavano dalla Grecia. Devo dire che è stato davvero piacevole anche per la simpatia del comandante e del suo equipaggio. Grazie a tutti.